4-2 con Corona e Rossini in attacco, sarà l'uomo decisivo, i cambi decideranno la salvezza del Catania. Il cross di Lucenti e infatti è Rossini che va a staccare di testa su Malagò, segnando il suo secondo gol in questa stagione, il diciottesimo per lui in Serie A. Festa per gli 8.000 sugli spalti arrivati da Catania qui a Bologna, festa anche per il presidente Pulvirenti, la salvezza ora è più vicina. Ed ecco di nuovo lo stacco di Rossini, specialista in colpi di testa, che va ad anticipare Malagò. 1-0 per il Catania al ventesimo.